25 milioni e 600 mila euro. È la somma che la Regione Campania ha messo a disposizione per la prevenzione sismica. Le risorse sono così ripartite. 1 milione e 300 mila euro per la microzonazione sismica, 20 milioni e 700 mila euro per la messa in sicurezza di edifici pubblici e strategici di proprietà comunale e 3 milioni e 600 mila euro per gli edifici privati. I comuni possono quindi ricevere dei fondi per gli studi di microzonazione che è una tecnica di analisi sismica che ha lo scopo di riconoscere le condizioni geologiche e geomorfologiche locali dell'immediato sottosuolo. In altri termini le analisi all'obiettivo di individuare eventuali effetti di sito a seguito di un sisma. Per quanto riguarda i lavori agli edifici pubblici e privati possono essere ammessi a contributo gli interventi cui lavori non sono ancora iniziate al 31 ottobre 2016 e che siano dotati di verifica sismica pre e post intervento dell'intero manufatto e di progettazione almeno definitiva con tutti i pareri previsti per legge. Gli interventi che i comuni possono richiedere sono suddivisi in interventi di rafforzamento locale nel caso in cui l'edificio oggetto di intervento non abbia carenze gravi, interventi di adeguamento o miglioramento sismico ed interventi di demolizione e ricostruzione, ammessa quest'ultima solo dopo la demolizione dell'edificio esistente per un maggior livello di sicurezza sismica con contestuale divieto di ricostruzione nel sito. L'atto di approvazione deve essere comunque adottato prima della scadenza del bando. La realizzazione dell'intervento proposto deve restituire un'opera agibile, funzionale e fruibile indipendentemente dal contributo massimo concedibile dalla Regione. Gli enti interessati dovranno trasmettere la propria manifestazione di interesse inviando la domanda di adesione al Dipartimento Servizio Sismico della Giunta Regionale della Campania entro e non oltre le ore 13 del 15 dicembre. È fatto obbligo fornire, appena esclusione dalle procedure di selezione, una descrizione della costruzione con allegati grafici e rilievo fotografico, descrizione dei modelli strutturali adottati dalle analisi effettuate delle ipotesi di calcolo assunte e fornire descrizione delle indagini effettuate per il raggiungimento del livello di conoscenza assunto nelle analisi.